Daspo Willy, si chiamano così i provvedimenti di divieto di accesso a locali di pubblico intrattenimento che prendono il nome dal pestaggio mortale subito a Roma dal giovane Willy Monteiro nel 2020. Il nuovo questore di Belluno Francesco Zerilli ne ha firmati tre a carico di altrettanti giovani tra i 21 e 33 anni che il 17 giugno avevano aggredito tre ragazze a una festa a Lambioi Beach. Nello specifico i Daspo redatti dalla divisione anticrimine e notificati sabato mattina dalle volanti della questura che avevano identificato i tre aggressori prevedono due formule. Due giovani non potranno frequentare né avvicinarsi troppo a bar, discoteche e locali notturni per due anni e a livello provinciale mentre per il terzo il divieto è limitato a locali specifici nella sola città di Belluno. La violazione del Daspo è un reato punito con la reclusione da sei mesi e due anni e una multa fino a 20 mila euro. Non pare essersene curato uno dei tre destinatari dei Daspo Willy, pizzicato sabato sera all'evento Summer Sound Waves sempre a Lambioi Beach, teatro del pestaggio da cui sono scaturite le indagini che hanno portato al provvedimento di divieto di accesso. Il questore Zerilli infatti aveva disposto alcuni controlli con personale in divisa per prevenire eventuali surriscaldamenti d'animo. Nella folla c'era anche uno dei tre autori del pestaggio di giugno che è stato denunciato per aver violato i divieti descritti nel Daspo a suo carico.